che c'è che c'è che mi fa ridere è che ci abbiamo proprio i capoccioni capite oltre che ce abbiamo veramente e poi il mio naso veramente la pantaleo effettivamente si poteva fare un ritocco è più piccola di tutti ma non è un problema perché tanto sul palco vi farò vedere ma ora la pantaleo chi è? è tutto proporzionato a quella col sino grande è tutto proporzionato alla recitazione al di là della locandina di che si tratta questo spettacolo? non lo so c'è uno sconto ce ne hanno parlato bene però ho detto la verità hanno detto persone che sono andate a vederle che si divertono assai assai divertenti fanno tre per due cosa da prima allora quando ci vogliamo organizzare andarla a vedere ci possiamo andare dal 27 aprile al 6 maggio quanti ne siamo perché fanno i tre per due ma quello è il titolo ignorante non è tre per due tre donne per due separati ma sai hanno sbagliato con voi ci sta Francesco Procopio chi è Francesco Procista Luana Pantaleo? Pol Cagliazzo Pol Cagliazzo è in ottica di America's Cup è una bella parchetta che pensiamo a Pol Cagliazzo la parchetta è Pol Cagliazzo ma tra di voi chi è il separato? a che? no nessuno siamo qui accompagnati nessuno molto innamorati delle nostre moglie no io faccio prima anzi poco l'occasione io faccio prima 25 anni di matrimonio a settembre e poi ottobre mi separano perché ho pensato mi faccio fare un po' con il regalo e allora se nessuno di voi è separato come vi è venuto in mente questo spettacolo? perché è una triste realtà in cui stanno tanti i separati per stare la difficoltà nostra da di voi e Francesco Procopio che abbiamo scritto il test era scrivere proprio sul fatto di parlare dei separati non sapendo quindi siamo dovuti ricorrere anche a consulenze esterne gratuite perché quando parliamo di consulenze esterne in genere in campagna poi vengono pagate invece noi le facciamo gratuite le consulenze esterne e poi ci siamo anche dovuti interfacciare con il mondo femminile perché pare 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 maschilista ma non lo è lo spettacolo alla fine questi due separati che partono che si separano e riconquistano la libertà poi dopo un poco cominciano ad andare sotto al gioco ma quindi è uno spettacolo per soli separati sto parlando serio sto parlando serio sto cercando di fare un discorso serio è una domanda serio il pubblico vuole sapere che è uno spettacolo per soli separati potete venire anche se siete felicemente sposati che noi parliamo di coppie poi se era un po' spettacolo per separati non è culpa nostra ma da questi separati che vi hanno fatto la consulenza ci avete pensato di non separarvi mai? diciamo che è un po' il messaggio che noi vogliamo dare facciamo questa cosa per il messaggio del valore della coppia come si dice? come si dice? come se dico con i pippo là come si dice? così non è nati non è nati è nati non mi cercavo di più quando uno gli dice mi lascio con mia moglie poi non trovova nata che no cosa per cosa mi stai per me Cosa per cosa non mi ricorda, comunque ce l'ha lui, se venite poi mi faccio spiegare cosa mi ve lo diceva Venite poi quando verrete me lo ricorderò, comunque è cosa per cosa, ma è che è cosa mia Esatto, comunque avete capito quant'è che siamo qua? E poi sempre mi trovo qualcuno con me Ah, aspetta, avete capito o non hai capito? E ripetete? Che hai scatto a mia moglie Alla, stai facendo il messaggio dal 27 aprile al 6 maggio Proprio tutto Ponte, invece di andarvene a mare, chiedate a fare a mare Per noi è caldo, ma voi tutti questi giorni festi venite a fare a noi Non approfittate dei primi caldi, eh, perché non si può mai sapere che ne sono proprio i periodi, proprio chiunque Tu solo fa male Eh, la curandella, cosa, un po' più freddo Eh, restate, restate con noi Al pomerale al Teatro Casper, 27 aprile al 6 maggio, noi siamo qui